Torna a Genova, Gemun, l'ONU dei ragazzi, alla sua dodicesima edizione. Sicuramente un grande avvenimento per la città, abbiamo cominciato a vedere gruppi di giovani, vorrei dire di tutto il mondo, o perlomeno di tante nazioni, radunati nella nostra bellissima città. Perché non dimentichiamo che Genova, oltre ad avere grandi tradizioni culturali, di scambi fra persone, fra civiltà, è anche una città accogliente. Io credo che questo sia importante, sia importante il dato dell'accoglienza, ma sia importante altrettanto il dato dell'educazione. Devo dire che gli sforzi che Fulgis, la fondazione Fulgis, che gestisce le nostre scuole, Duchessa di Galliera, Grazia dell'EDDA, EDIS, dell'EDDA International School, che è attiva nella promozione, nella valorizzazione, nell'attivazione di questo percorso, davvero ha agito non solo nell'interesse dei giovani, ma nell'interesse dell'intera comunità cittadina. E quindi naturalmente va a grato il pensiero, perché noi come Comune diamo il nostro pieno sostegno a queste scuole e alla fondazione, ma nello stesso tempo va all'idea che solo confrontandosi giovani di diverse nazioni, di diverse esperienze, di diversa cultura, possono arrivare a quello a cui forse noi adulti non arriviamo, cioè una civiltà di parola, piuttosto che una civiltà di guerra. Sulla scia dell'Expo di Milano il tema centrale dell'incontro è l'alimentazione. Che ruolo ha il cibo nell'insegnamento? Purtroppo, visto che io sono un nostalgico degli anni 70 e del tempo pieno, quando il momento della mensa e del cibo era un momento educativo, devo dire che davvero, con rammarico talvolta, nelle scuole, ad esempio, il momento del cibo, proprio per la ristretezza degli spazi, diventa un momento quasi di mensa aziendale. Una delle scommesse che gli insegnanti fanno, sicuramente i nostri insegnanti fanno, ma anche gli insegnanti di scuola primaria, è quella di riportare la cultura del cibo, che non significa seguire qualche corso di cucina, ma la cultura di un'alimentazione sana, rispettosa dell'ambiente e soprattutto legata a questa idea di partecipazione. Occorre guardarci intorno sempre, non pensare magari che il pollo sia quello che vediamo già confezionato al supermercato e soprattutto non dimenticare che noi apparteniamo a quel mondo che ha molto, ma c'è da un'altra parte del mondo, chi non ha la stessa cultura dell'alimentazione, non perché non abbia la cultura, ma perché non ha l'alimentazione. Grazie. 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 Grazie.